Musica Non è ancora iniziata la puntata di Sonar Facebook Live, è solo un Aspettando Facebook Live. 5 minuti al massimo e fate la sigla. Musica Però si può fare anche come fanno su Rai2 a quelli che il caccio, si può chiacchierare in attesa del programma, no? Benvenuti a questa puntata domenicale, mi scuso con chi ieri si era collegato ed è rimasto a bocca asciutta, ma il dovere mi ha chiamato e quindi non potevo essere in diretta con voi. Rimediamo oggi, ve lo prometto, con una puntata dedicata alle cover. Musica Ciao Luca Ciao Oliver Ciao Lancello Qui qualcuno scalpita, mi dice inizia, inizia. Volevo aspettare le 5 e mezza, fare una cosa precisa, però si può iniziare anche adesso. Intanto lascio Tony Banks in sottofondo E ribadisco che questa sarà una puntata dedicata alle cover, cioè quelle particolari versioni, per quei pochi che non lo sanno, di canzoni più o meno famose incise da altri musicisti, non quelli originali dell'incisione iniziale. Che alle volte diventano anche più famose le cover delle versioni iniziali, è già capitato. Allora, prima cover di oggi, mentre saluto anche gli altri che stanno raggiungendoci, Samuele, ciao. Beh non sto qui a dire ciao Giovanni, ciao Alessandro, ciao Penelope, se no non ne finiamo più. Diciamo che faccio un ciaoone, come si dice in questo periodo, a tutti, e iniziamo con la musica che è la cosa più importante. Allora, prima cover di oggi, per tutti gli amanti del rock un po' adattato, e originariamente chi aveva inciso questo brano, erano in quattro, si chiamavano Led Zeppelin. Questa è una particolare, scusate ma non ci vedo tanto bene, versione di Full in the Rain, con un coverizzatore molto particolare, un coverizzatore d'eccellenza, ovvero Rick Wakeman. Adesso ve la vado a trovare, se parte. No? Questo è seppitoni ben, sì. Ragazzi, questa tecnologia purtroppo mi è avversa oggi, forse parte, forse, abbiate fede, abbiate fede. Insomma, con uno stacchetto non bellissimo. Full in the Rain, Rick Wakeman. Obsolete e dir poco. Come dicono a Milano, queste sono le apparecchiature del Carlo Cudega. Ma a noi piace così. Dattato. Sous-titrage Société Radio-Canada Tra l'altro lo dico ad uso e consumo dei batteristi all'ascolto come Marcello Schena, la batteria insieme a Rick Wakeman, in questo brano, la suona Vinny con l'aiuta. Non so se mi spiego. Bello quadrato. Allora, puntata di Sonia Facebook Live dedicata alle cover, che sono, guarda a caso, una delle mie tantissime passioni. Oggi ho anche, a dispetto di quello che diceva Marcello, una apparecchiatura moderna. Ho pure l'iPad collegato al mio canale Covermania, se volete andare a sentirvi la compilation su Spotify. E pescherò da lì qualcosina di interessante da proporre. con il prossimo brano, Satellite of Love, originariamente un grande hit di Lou Reed. Queste sono sempre... E' sempre le Wakeman. Satellite of Love, in una particolare versione, realizzata da Morris, dal vivo. Amore, sei il cantante degli Smith, molto bello. Le faccio ascoltare giusto un pezzettino. Satellite's gone, up to the sky, it's Things like that drive me out of my mind I watched it for a while I cannot stand the TV Satellite of Love, satellite of love Satellite of love, oh, Satellite of love Satellite of love, oh, Satellite of love Vediamo un po' chi si è collegato. Nicoletta, ciao Nicoletta Anche il collegamento non è al meglio. Dammi un controllo adesso. Io vado in fibra, quindi dovrei essere perfetto come emissione da Sesto San Giovanni verso il mondo. Poi non so voi come recepite il segnale. Ciao Lorena Benvenuta Praticamente questa non è una trasmissione di musica E' una trasmissione di saluti. Ciao, come stai? Oh, che bello, sei arrivato anche tu. Basta, adesso basta. Potrebbe sembrare quasi un pezzo degli Smith, perché Morrissey Chiaramente ha timbro vocale inconfondibile Cambiamo totalmente genere Soprattutto per omaggiare la maglietta che ho indossato oggi Con il mitico duo Bruce Springsteen e il buonanima Clarence Clemos Vi faccio ascoltare da un bootleg italiano S.O.S. Racism Una particolare versione di un classicone della musica rock Ragazzi, qua oggi non funziona, non funziona Questa è la scritta Bob, Dylan Ma oggi non funziona, non funziona How many times must a man look up Before he can see the sky And how many... Intanto poi la conoscete, come va avanti Insomma è questa Questo è un concerto, un bootleg di Springsteen Che chiaramente cita uno dei suoi padri Dei padre della canzone americana cantautorale Che poi ritroveremo durante il corso della trasmissione Sempre a proposito di cover version L'ho citato settimana scorsa Ve lo ripropongo anche questa settimana Perché mi piace tantissimo ascoltarlo in questo periodo E' il nuovo album dei gang Fatto di tutte canzoni incise nel 1977 Da altrettanti cantautori italiani Da De Andrè e Claudio Lolli Questa è Cercando un altro Egitto Francesco De Gregori rifatta dai gang E' mattina presto Mi chiamano alla finestra Mi dicono stai attento Ti vogliono ammazzare Io domando chi Loro fanno cosa Insomma prendo tutto E' come San Giuseppe Mi trovo a rotolare per le scale Cercando un altro Egitto Boh! Tex-mex! Ti vuoi tutto calmo La strada è la deserta Ti dico vero male E' tutto uno scherzetto Sollevo gli occhi al cielo E vedo sopra un tetto Mia madre inginocchiata E in equilibrio su un camino La strada adesso è piena di intenzione E' amore qui vicino Un uomo proprio all'angolo Vestito da poeta Vende fotografie tirate in serie Un ricordo della terra Calibro 77 Nuovo album dei Gang Andiamo avanti Lo sapete Chi mi segue dalla prima puntata Sa che questa è una trasmissione Fatta a spizziche e bocconi Ci sono solo delle suggestioni Delle proposte veloci Soprattutto per costringervi Ad andare ad acquistare questi dischi Insomma è un marchettone Cover 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 Particolari Vado davvero improvvisando Perché come al solito Ho preparato la trasmissione Dieci minuti fa Questo è un disco dei Toto Absolutely Live Che conclude La seconda facciata Con Pezzone dei Beatles Fosse uno dei gruppi più coverizzati al mondo With another help from my friend Che fu fatta La cover più famosa di questo brano Chi la fece Vediamo un po' se Qualcuno se lo ricorda Mega concerto epocale Dai facile Vabbè Ti aiuto Si tratta di Woodstock Joe Coker C'è questa Canzone Che c'è andare invisibilio Il pubblico Giusto Giusto Bravi Luca e Marcello Certo Steve Locator Non è Joe Coker Però Ci accontentiamo oggi Oh I oria Ce E E Uno 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 S bella questa cosa vedo una Loredana che saluta Marcello è proprio quello che mi piace che si crei questa community di appassionati attorno a Sonar Facebook Live continuate così ricordo anche che in Toto fecero qualche anno fa un bel disco di cover che devo avere da qualche parte ma che adesso non oso cercare nel marasma che mi circonda tante cover tra le quali spiccavo una bellissima versione di While My Guitar Gently Whips dei Stato dei Beatles ti riconsiglio While My Guitar Gently Whips uno dei pezzi più belli in assoluto della discografia dei Beatles e non scritto da Lennon McCartney senti da George Harrison vediamo se mi riesce il cambio con l'iPad vediamo è riuscito Red Rain chiaramente uno degli hit di Peter Gabriel post Genesis qui rifatta da un gruppo a frog metal famosissimo allora guidato da Gave Tate il cantante anzi una volta non era pelato ma dei capelli questa è Red Rain che c'è giuro che non è stato fatto poco, ma mi è venuto in mente che Marcello un po' di anni fa faceva Red Rain, chissà se la fa ancora, magari ce lo può scrivere qui sotto, la sua era una versione molto molto interessante, un bel tiro anche merito non solo suo ma della band che l'ha accompagnato, dei vari personaggi che si sono avvicendati nelle sue band in questi anni. Il prossimo pezzo vi dico il titolo ma non vi dico chi lo esegue, si tratta di Arthur the Grapewine, però fatto da un terribile duo inglese, femminile, vediamo se riuscite a riconoscerlo. Oggi ho così, è salto di palifrasca, generi tra i più disparati. Non è Ninagen. La Ninagen è tedesca, quindi non potrebbe essere. Non è neanche Elena Lovic, anche se potrebbe in qualche modo assomigliare, per l'ultimo è quello. Ve lo dico, sono le Slit, periodo punk, new wave, ragazzine terribili. Visto che abbiamo preso un po' questa china un po' d'entereccia, vi proporrei un altro cover che ha questo tipo di tiro, interpretata da Ronny Jordan, un classicone in origine di Miles Davis del primo periodo. Questa è So What. Pensavate di ascoltare queste cose, sono a Facebook Live, pensavate che questo qui è un vecchio Barbagiani, Prog, i cambi di ritmo, le suite di 20 minuti. Invece no, sono giovane, quindi ve lo dimostro. E' che quando c'è questa musica mi viene, mi prende un po' la sinome del DJ quello, e ragazzi siete in ascolto di Sonar Facebook Live. Mi viene, è un po' quella voce un po' importata. Le miniscenze. Passo un po' perché non vorrei che i vicini si lamentassero. Vediamo se riconoscete queste. E' pregabile, però in versione metallosa. Vediamo se riconoscete queste. Grazie Loredana, che bel complimento come hai fatto, sono d'accordo. Shop the Monkey con i Cool Chambers e la special guest di Sua Santità Ozzy Osbourne. Ciao. 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 Vi ricordati Mission, che ha qualche anno oltre i 40, probabilmente sì. Questo non è uno dei loro hit personali, bensì Like an Hurricane di Ni Liang. Vi fiocca nei complimenti. Ragazzi, trovate in una radio e vi faccio vedere le stelle. Ci sto lavorando, ci sto lavorando. Non è che sono obsolete le apparecchiature, è che non avendo un mixer si creano quei buchi tra un pezzo e l'altro terribili. Sia per voi che ascoltate, ma per me che sono qui vindo lungo la sera. Mentre vanno in Mission, ne approfitterei per segnalarvi qualcosina interessante in uscita. Ah, intanto Mucchio, che è una delle mie riviste preferite. Questo mese non porta in copertina nessun artista, mai il ritorno di Twin Peaks. Terza stagione che aspettiamo tutti con grande impazienza. Neanche Rally Stones presenta un artista, o meglio, è un artista nel suo campo, è Papa Francesco, il Papa Pop. In pittura fresca cantavano che volevano un Papa Nero, noi abbiamo avuto il Papa Pop. Ricordo, anche se l'ho già citato la settimana scorsa, Prog Italia diretta da Guido Bellachioma con uno specialone specialissimo legato ai Pink Floyd e poi magari avremo modo di ascoltare qualcosa di Prog durante la puntata. Anzi, ve lo faccio subito. Lo faccio ascoltare subito se riesco. Uno spumino, vediamo se è partita. Delson Volcano, non è secondario dei Genesis, ma è Jordan Rhodes dei Dream Theater che si cimenta con uno dei sacri graal della musica propria. Torniamo alla segna stampa blow up di questo mese con Marco Ozzerec in copertina. E poi, permettetemi il marchettone personale, la mia rubrica sul patrimoniale in famiglia, si chiama In Musica, dove ho citato un po' di dischi che sto ascoltando in questo periodo. La mostra dei Pink Floyd che tra qualche settimana si inaugura a Londra, quindi se avete occasione di fare un viaggetto da quelle parti. sappiate che alla Victoria nell'Albert Museum c'è questa mostra particolarmente interessante perché è curata dagli stessi Floyd. Poi si parla di Ligabue che ha sospeso il tour per operarsi la gola ma già è tornato in attività. Bene, l'Eggio è vuoto, la segna stampa è finita. La commissione è no. Vediamo cosa posso farvi ascoltare sempre in ambito di cover. Questa. Li abbiamo sentiti all'inizio, coverizzati da Kit Emerson. Questa è una delle più grandi jam band dopo i Grateful Dead, sono i Fish, i Californiani Fish. E questa è un'altra hit single di Robert Plant e Sochi. Fatta benissimo. Good times, bad times. ed è un giro. Alla lunga parte use è il corale dell'Albert Museum. La nata è questa dina. se abbiamo sapato quando si provo gli occhi, e sono troppo stai sempre in dalla RYoame. Alla lunga parte use è il corale dell'Albert Museum. Quindi, dopo l'Albert Museum c'è, la canadina è il corale dell'Albert Museum. Esatto. Questa è un corale dell'Albert Museum c'è. Sono d'accordo con Luca, Anastasio è un grandissimo, ma i Fish in realtà sono una band stellare. Questa non ve l'aspettereste mai. Everybody's Talking, vecchio hit di Harry Nilsson, incluso nella colonna sonora di Un uomo da bracciapiede. Fatta in maniera cavernosa da Iggy Pop. Going where the weather suits my clothes Tagging off of a northeast wind Sailing on summer breeze Skipping over the ocean like a stone Se Iggy Pop si cimentava con una canzone così melliflua come Everybody's Talking, che dire di questa? Canzone epocale che ha segnato un'epoca nella canzonetta italiana fatta da David Bowie. E dice, ti stavi lassù Penso col sogno così, non ritorni mai più E ti vincevo le mani e la faccia di più Perché leggevi i commenti e parlavamo di tre Anastasio, un grande E c'è qualcuno che sottolinea anche Anastasi, Pietruzzo era grande E con menciavo volare in accello infinito Volare Oh-oh-oh Cantare VELAVO, VELAVO, NON VOLAVO, VELAVO! Con una sonora di un film molto divertente di Julian Temple, Absolute Beginner, Questa era Volare, tra parentesi, nel blu di Twinkle in Blue, interpretata da David Bowie. Continuiamo con la musica italiana, rifatta in maniera eccellente. Vediamo se la riconoscete. Almeno tu nell'universo, dalla magica, e sottolineo, magica tromba di Paolo Fresu. Grande canzone di Mia Martini, splendidamente interpretata da Paolone. Intanto mi piace ricordare gli autori di questo brano, che sono Maurizio Fabrizio e il grande e indimenticabile Bruno Lauzzi, che ho avuto l'onore di intervistare, personaggio di quelli davvero magici. Un poeta, forse uno dei più grandi poeti della canzone italiana. Con queste atmosfere, a parte che mi viene la pelle d'occa, abbiamo preso una china più rilassata, più intimista. Quindi proseguiamo, a me piace questo mood. Proseguiamo con un'altra cosa che non credo abbiate ascoltato in molti. Un altro musicista che non è più tra noi. Prince, ha le prese con un altro monumento della canzone americana, cioè Johnny Mitchell, A Case of You. Qui la pelle d'occa cresce e diventa nocone. Un altro musicista che non credo abbiate ascoltato in molti. Pensare che le prime volte che ho ascoltato Prince non è che mi avesse entusiasmato. Lo trovavo sicuramente divertente, però non avevo ancora capito il genio compositivo di questo omino che ha scritto delle cose. Invece, a parte questa, che è di Johnny Mitchell, ha scritto delle cose straordinarie nella sua carriera. Tra l'altro stavo aspettando un bootleg bellissimo, un cofanetto sestuplo suo. Non è ancora arrivato, quindi vorrei dire che farò un'altra puntata dedicata alle cover, con un nucleo centrale dedicato al nanetto di Minneapolis. Nanetto con rispetto, eh? Tegli amici. Questa è dedicata a tutti gli amanti come il sottoscritto di James Bond. Si vive solo due volte, una delle colonne sonore famosissime dei film dell'agente 007, in questo caso interpretata magnificamente da Mark Lennigan. Sto leggendo che qui ci sono dei collegamenti familiari. C'è la cugina che ha chiamato la zia, quindi saluto tutto il parentado Varani all'ascolto. Mi fa molto piacere avervi qui, in casa mia, all'ascolto di Sonar Facebook Live. Cerchiamo di ridare un pochino di corpo, di energia. Domenica non è ancora finita, siamo ancora a riposo, lunedì deve ancora iniziare. E lo facciamo con un pezzo originariamente inciso dai grandissimi Clash, in questa versione dei Chamba Wamba. Papà era un rapinatore di banche, un bank robber. Papà è un bank robber. You really got me! Grande hit dei Kinks, questa versione electro-pop dei Robots in Disguide. Praticamente oggi voglio battere il record, il Guinness dei Primati, in un'ora di trasmissione 200 gradi. Sapete che oltretutto ci sono anche dei limiti di carattere legale, quindi non posso trasmettere tutti i brani in maniera completa, a solo darvi dei suggerimenti. Ah, zia Maura, ciao zia! La trasmissione dei Varanos, dice che i sopranos i Varanos. Il prossimo brano ve lo annuncio tenendo You Really Got Me, un bel aneddoto legato a You Really Got Me, che non mi vede naturalmente protagonista, però che racconta un aspetto molto interessante di questa canzone. Il fratello, uno dei due Kinks praticamente, stava cercando un suono per la chitarra appropriato per You Really Got Me. Non riuscendo a trovare, ad un certo punto prende la chitarra e praticamente con la chitarra sbuca il Marshall amplificatore che stava usando. In quel momento, sentendo quel suono gracchiante, capisce di avere finalmente trovato il sound giusto e incide la canzone con quell'amplificatore. Da lì è nato il proprio riffone di You Really Got Me. Il prossimo pezzo, invece, è considerato uno dei più grandi pezzi di musica pop inglese degli anni 60. Scritto da Brian Wilson, leader dei Beach Boys. Di questo brano, Paul McCartney ebbe a dire «Avrei voluto scriverla io» perché è una canzone magnifica. Dio solo sa. God only knows. La canzone è bellissima, l'interprete quasi alla pari perché è la magnifica Joe Stone. Quindi, versione senza trucchi, senza inganno, fatta in maniera impeccabile. La canzone è bellissima, e generosity, a verba parteQuità della crescita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo John Stone, Pete York, un tributo a Warren Zevon, Splendid Isolation. Le volte da soli si sta davvero in maniera perfetta, in maniera splendida. Le volte da soli si sta davvero in maniera perfetta, in maniera splendida. A proposito di musica americana, mi ero dimenticato di segnalarvi due libri usciti... Scusate, ma si era rimessa in pausa la trasmissione? Uno è Riccardo Bertoncelli, Una vita con Bob Dylan, giunti editore. Bellissimo disco, è un bellissimo libro. D'altronde, non andare piano, perché sennò si dicono delle cose sciocche. Bertoncelli è uno dei grandi giornalisti della musica italiana, quindi non poteva non realizzare una cosa degna del suo nome. L'altro libro, bello spesso, Paolo Giovannazzi, tutte le canzoni di Bruce Springsteen, una per una, analizzata, catalogata, commentata... Sempre giunti editore, uno dei miei editori del cuore, che vi consiglio. D'altronde, oggi era la giornata adatta per citarlo. Ultimo libro, che non c'entra niente con il rock americano, ma con quello inglese, è la biografia di Ian Curtis, dei Joy Division, raccontata dalle parole di Deborah Curtis, della moglie, che ricordiamolo fu quella che trovò Ian Curtis nella sua casa suicida. King Crimson, in versione jazz, uno dice impossibile, invece no, con Kurt Elling, una voce straordinaria nell'ambito del jazz mondiale, questo è Mate Kudassari. Tanto arrivano gli amici, si avvicinano. Mate Kudassari, Kurt Elling. Marcello mi fa sapere, oggi lui è attivissimo. Ringrazio di questo seguito così attento alla trasmissione. Mi dice che oggi è il compleanno di Steve Gadd. Caspita, Steve Gadd. Nome che davvero mette i brividi. Batterista strepi, strepi, strepitoso. Auguri, auguri Steve, se ci stai ascoltando, augurano. Sontate, Stefano, auguri Steve, se ci stai ascoltando, auguri a licea. She sleeps in a chair In her sad America Visto che avevamo parlato di Steve Gadd Ci ha ricordato Marcello che è il suo compleanno Mi è venuto per l'associazione di idee Steve Gadd Paul Simon Che ha suonato tanto Steve Gadd nella band di Paul Simon E allora ho tirato fuori Questo dischetto Bob Dylan and Paul Simon È un bootleg Che ha a che fare sia con i bootleg Ma anche con le cover Perché questi due signori Questi due monumenti della musica americana Eseguono insieme Che cosa? Ascoltate Qui Paul Simon canta Bob Dylan suona la chitarra Quindi in qualche modo rientra un po' nelle cover Perché Dylan esegue un pezzo non suo Vabbè, the sound of silence Mi toglierei il cappello se ce l'avessi Eseguono insieme Che che ci si è il nostro tanto che vedere insieme Paul Simon e Bob Dylan sullo stesso palco non deve essere emozione da poco volevo fare una puntata molto energica invece sono andato proprio sull'intimista sul malinconico un pochino non parlo di nostalgia perché so che c'è all'ascolto Marcello che poi mi bacchetta nostalgia è una parola bandita da questa trasmissione ma l'inconia si può dire nostalgia? No ciao Ezio che mi dà del pirlum milanese spero affettosamente, anzi sicuramente so che Ezio mi vuol bene che segue tutte le mie malefatti su Facebook comunque questa è The Sound of Silence con Dylan e Paul Simon avercene stacco? stacco? non stacca? allergia della staccare forse perché non l'ho fatto così non so i Queen dai vediamo chi indovina dai Doemian Rhapsody cantata da un altro grande che non c'è più non sono i neri per caso sbagliato Marcello John Whetton eh sì proprio lui che ricordiamo sempre con grande affetto naturalmente va bene come nostalgia questa va bene come nostalgia questa? i Queen non hanno ammaliato solamente le passioni di John Whetton da ascoltatore e da interprete ma anche di qualche altro cantante orbitante nel mondo del progressive metal come quello che arriva adesso ormai siamo quasi in chiusura sparo le ultime cartucce si tratta di James Lalagna Labrie con One Vision del Queen Lalagna perché io personalmente non lo supporto ha quella voce gallinacea però insomma la versione merita ha questi capelli lunghi potrei farlo ma così non funziona bene non è la stessa idea non è la stessa idea vado avanti o mi fermo qui? io mi fermo eh? se vi da fastidio mi fermo James Labrie è l'unico davvero che non sopporta dei Dream Theater lo dico qua pubblicamente così almeno mi tolgo il dente sappiatelo dal rock, dal classic rock inglese sempre con l'ausilio del mio account di Spotify questa è una compilation che potete trovare si chiama Cover Me, l'ho realizzata io quindi ritroverete gran parte dei brani che ho permesso di pubblicare dicevo da questa compilation pezzo italiano sono il diaframma di Federico Fiumani apro gli occhi e ti penso e ho in mente te e ho in mente te apro gli occhi e ti penso e ho in mente te 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 vediamo chi vuole ascoltare impressioni di settembre eseguita peraltro in maniera ottimale dai Marlene Kunz alzi la mano anzi pollice up grazie a Teresa grazie 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 dice diretta da rifare e rifare ma io sono qua o il sabato o la domenica a seconda degli impegni che il weekend mi impone io sono qua presente con Sonar Facebook Live mi trovate anche su Facebook il mio canale mio profilo personale Luca Varani ma anche sul profilo Sonar c'è anche una pagina open che si chiama Coverama per gli amanti delle cover sempre amministrata dal sottoscritto quindi venitemi a trovare se i diaframma coverizzano l'equip e cantano io ho in mente te i consorzio suonatori indipendenti CSI di Lindo Farretti sottolineano e ti vengo a cercare se ho in mente te ti devo venire a cercare insomma l'azione epocale bellissima sofferta un po' narcolettica molto molto bella e ti vengo a cercare che la fecero durante un programma unplugged su... in televisione dal quale poi è penetrato un album live il mio film è un film che si fa mi chiede quando lui e Luca potranno venire a casa a trasmettere insieme a me 2-3 settimane il tempo di tornare da l'Ombra faccio una puntatina in terra d'Albione torno magari con qualche bel disco e poi la facciamo assolutamente anti radiofonica questa versione magnifica dei CSI di E ti vengo a cercare di Franco Battiato prossimo brano bellissimo nella versione originale tremendamente brutto in questa cover ad opera di Mi Gior ex Ultravox e dopo questa canzone secondo me è diventato ex di tutto beh, ditemi che canzone è originalmente c'era il flauto attraverso qui c'è un synth bravo Enzio Mi G Trottalla Living in the Past uccisi dalle velleità pseudo-prog di Mi Gior WIW canzone vi con 節目 uccisi il lo ci Sempre Living in the Past, una versione un pochino più come si deve, fatta da Keith Emerson. Molto, molto meglio. Mi spiace ma è scoccata l'ora e io devo ritirarmi nelle sale del mio castello, in altre faccende a faccendarmi. Vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione, siete stati come al solito in tanti, poi chi non era presente può ritrovarmi sul mio profilo Facebook indifferito, in questa puntata di Sonia Facebook Live dove ho imbastito una selezione di cover brutte, belle, insomma c'era davvero un po' di tutto, vi lascio sempre in tema di cover version con il nuovo album di Bob Dylan, tanto si è detto su questo triplo album di cover di canzoni storiche del patrimonio americano, soprattutto dei primi decenni, del Novecento. A me personalmente è piaciuto molto perché rispetto alle versioni originali di questi grandi brani, Dylan ha giocato come al solito di sottrazione e ha messo un po' di sangue amaro, togliendo quell'eccesso di zucchero che in molti brani originali era contenuto. Io vi lascio non a caso con un brano che si chiama The Best Is Yet To Come, il meglio deve ancora venire, che tra l'altro è l'epigrafe che recita la lapide dove è sepolto Frank Sinatra, che era un mattacchione, quindi quando è andato al creatore ha detto no ragazzi, non ho dato il maschio. Allora, vediamo se riesco, nonostante i maneggi, a farvela ascoltare. Triplicate, tre dischi. The Best Is Yet To Come Magari nella prossima puntata di Sonar Facebook Live, quindi vi aspetto, vi saluto, state ma buone. Magari nella prossima puntata di Sonar Facebook Live, quindi vi aspetto, vi saluto, Magari nella prossima puntata di Sonar Facebook Live, quindi vi aspetto, vi saluto, Magari nella prossima puntata di Sonar Facebook Live, quindi vi aspetto, vi saluto, 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 vi saluto.